Ciao, io sono il cane Yuko e oggi farò il bagnetto. Tutto iniziato quando la mia umana mi ha portata in questo posto in cui c'era una bellissima cagnolina. Ma poi alla fine mi sono ritrovata sommerso in una vasca piena d'acqua. Ammetto che all'inizio questa storia del bagnetto non mi piaceva affatto, anche se poi beh, alla fine non era poi così male, a parte la schiuma che mi prodeva ovunque e così mi sono dovuto sgrollare tantissimo. E poi ero pronto per essere sciacquato con l'acqua. Beh, tanta acqua! Aiuto. Ehi, aspetta umana, che cos'è questo tubo? E perché lo stai puntando proprio verso di me? Aiuto padroncina, nascondimi! I cagnolini penseranno che sono un cane fifone! Ovviamente stavo scherzando, sono stato un cane bravissimo. Anche perché ho scoperto che se mi fossi comportato bene, mi avrebbero dato un sacco di biscottini. Ehi umana, ma cosa stai inquadrando? Cosa? Quello sarebbe il mio pelo! No, vi giuro che non è affatto come sembra. I miei umani stanno mentendo, io non spelo affatto. Ok, sì, forse giusto un pochino, però tutto il resto del pelo era di quell'altro cagnolino, ve lo giuro. E così dopo l'ultima spazzolata sono pronto. Che ne dite? Non sono bellissimo? Grazie mille umana.